Ciao a tutti, è cambiato perché e come reagire? In questo video voglio spiegarti cosa fare se lui è cambiato, perché è cambiato e come reagire. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai scegliere diversi livelli di abbonamento, abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate, videoregistrazioni, seminari dal vivo e abbonamento master consulting appunto con in più una consulenza telefonica. Ma veniamo al tema, veniamo al tema, lui è cambiato, perché e come reagire? Allora capita molto spesso che inizia una relazione, magari lui è disponibile, si dimostra molto coinvolto con te, insomma ti dà anche delle belle emozioni, ti dà quello che tu vorresti da un certo punto di vista avere e poi però da un certo momento in poi, insomma si verifica un cambiamento, inizia a mollare la presa, non è più così, non appare così più coinvolto con te, inizia a distaccarsi un pochettino, non ti dà diciamo più quello che tu vorresti fondamentalmente, avviene una sorta di distacco, avviene una sorta di cambiamento. Ora che cosa puoi fare per evitare insomma che questo cambiamento, questo distacco in fondo ti faccia stare male? Come recuperare la situazione? Come reagire? E perché è capitato questo? L'uomo che conoscevi non è più lo stesso. Da quando è iniziato la relazione? Allora, quando parliamo di cambiamento c'è sempre una motivazione, a parte che il cambiamento avviene spontaneamente, ma diciamo noi non possiamo mai evitare di cambiare, il cambiamento è una costante nella vita, ma il peggioramento però no, cioè nel senso che uno dice perché non cambia in meglio, andando avanti con la relazione ci dovrebbero essere dei cambiamenti in meglio, cioè ci dovrebbe essere sempre di più un'affinità, sempre di più un coinvolgimento, invece non capita. Spesso capita proprio il contrario, capita che anziché il coinvolgimento avviene un decoinvolgimento. Questo dobbiamo tenerlo presente, è un fatto fondamentale, è un fatto importante. Allora, questo uomo è cambiato, non è lo stesso che conoscevi quando hai iniziato la relazione. Che cosa fare? Allora, devi agire in due passaggi. Il primo passaggio è quello, verifica, che, di essere tu al top nella tua parte, perché spesso succede, purtroppo è un dato di fatto, che una donna tende a lasciarsi andare. Quando dà magari una relazione per scontata, per consolidata, tende a ingrassare, tende a non essere più così sexy, sensuale come era prima, tende a dare per scontate alcune cose. Non dico che sia il tuo caso, per carità, anzi, magari non lo è. Però, diciamo così, che è meglio fare un accertamento di questo. Insomma, è meglio fare un accertamento, perché, diciamo, devi essere al meglio. Quindi, è fondamentale riacquistare o acquistare, se non ce l'hai, la tua indipendenza, perché anche qua, spesso diventi dipendente effettivamente, migliorare la tua vita personale, non dare tutto all'altro, sperando di ricevere in cambio. Questa è una cosa fondamentale. Diventa la sfida, che probabilmente era l'inizio. Sii la persona arricchente nella relazione, per spingere l'altro a investire su di te, spingere l'altro, spingere il maschio ad avere dei dubbi, ad essere, diciamo, a generare dei dubbi, che tu possa essere innamorata, che tu possa essere coinvolta. Per sedurre, diciamo, un uomo, ma anche per sedurre una donna, l'atteggiamento è fondamentale, non l'investimento eccessivo nella speranza di ricevere. E questo è un altro punto fondamentale, da tenere presente. un altro passaggio fondamentale, prestare attenzione alla tua percezione. Se tu tendi a concentrarti sui problemi, se tu tendi a concentrarti su ciò che ti manca, vai a ingigantire il tutto, vai a peggiorare completamente la situazione. Ti dimentichi di guardare ciò che è positivo, ti dimentichi di guardare ciò che esiste. Quindi devi riequilibrare un po' l'attenzione, perché il focus che noi facciamo diventa un po' la nostra realtà. Se metti tutta la tua attenzione sul negativo, vedrai solo cose negative. E ecco, queste sono le due cose fondamentali. Inoltre, capire meglio gli esseri umani darà sicuramente dei miglioramenti. Se, diciamo, queste due cose le hai messe in atto, pensi di essere al top di te stessa, pensi di non essere, diciamo, come dire, di non vedere le cose negative, ma lui cambia, si allontana, beh, se hai fatto le prime due verifiche, non chiuderti in una relazione insoddisfacente, nella speranza che cambierai. Inizia a esplorare altre cose, inizia a frequentare altri uomini, o altre donne, diciamo, se sei uomo o donna, insomma, questo, ripeto, vale un po' per tutti. Inizia a frequentare altre persone. non dimenticare che una relazione va vissuta nel presente e non va vissuta nei ricordi del passato, se erano felici, e non va vissuta neanche nella speranza del futuro. Questo è importante. Poi, per salvare la tua relazione, una volta che hai fatto tutto questo, devi semplicemente attendere, non devi assolutamente privarti della felicità nella speranza che ritorni come prima. Questa è una sua scelta. purtroppo non è che puoi influire più di tanto, ma se hai già fatto queste cose, diciamo che hai già fatto qualcosa di importante. E queste, questo è quello che che devi fare. Altre cose non, non sono possibili, insomma. E l'importante è rendersi conto che, insomma, ha morto un papa, se ne fa un altro, eventualmente, anzi, adesso se ne fanno pure due, quindi non è neanche più questo il problema. Se questo video ti è piaciuto, metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare scegliendo tra quattro livelli di abbonamento, abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e video registrazioni Seminar del Vivo, abbonamento Master Consulting con in più una consulenza telefonica. Ciao a tutti!